La storia del diritto ecclesiastico occidentale arbitrariamente viene fatta nascere nel 313, con l'editto di Milano emanato dall'imperatore romano Costantino, ma è solo dopo l'unità d'Italia del 1861 che si posero le basi della disciplina giuridica civile dei fenomeni religiosi, conseguenza della separazione fra autorità civile e autorità religiosa. In tale contesto nel mondo accademico dell'epoca un ruolo da protagonista lo giocò la città di Napoli grazie alla visione dell'Università Federico II, che riuscì ad istituire la prima cattedra di diritto ecclesiastico dell'Italia Unita. Nel corso del convegno l'Università di Napoli e l'istituzione della prima cattedra di diritto ecclesiastico è stata ricordata la figura del professore Francesco Scaduto, primo docente ad insegnare il diritto ecclesiastico d'impronta moderna a Napoli. Ai nostri microfoni la prolettrice Rita Maria Antonietta Mastrullo e il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Sandro Stajano. Il diritto ecclesiastico come la regolamentazione giuridica dello Stato rispetto al fattore religioso e quindi anche alle confessioni si inserisce in questa scia culturale. Tutto gira intorno alla grande personalità di Scaduto che fin dalla prolusione del 1884 a Palermo aveva intuito genialmente la necessità di rendere autonoma la disciplina di diritto ecclesiastico e il diritto canonico. Grazie a tutti.